Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video diciamo su Call of Duty Black Ops 3 Vi ricordo in questo video che se parlerò di cose al futuro Quando per voi sarà già passato o presente È perché sono in vacanza E di conseguenza questi video sono tutti registrati di fila Infatti è anche in congruenza con il vestiario Magari sempre uguale Perché vi cambio l'abito ogni video Però magari ora che ci sono tutti insieme Magari metterò due video lo stesso giorno Allora ho lo stesso vestito e quindi non torna per quello Ma tornerà Stessa cosa vale per l'abbronzatura Magari un giorno esco mi abbronzo un po' di più In un video sono più abbronzata In quello dopo sono meno abbronzata Stessa cosa Oggi siamo qua su Black Ops appunto per la serie Hashtag armi brutta Avete visto dal titolo E l'arma di oggi lo sto creando adesso E per ora è questa Avete visto anche forse dalla copertina Non lo so Ed effettivamente è proprio brutta Con questa mia metica poi L'unica cosa è che il mirino Lo rende quasi un fucile Sembra quasi un fucile a cecchino Quasi serio Quindi direi a questo punto Di rimuovere tale orridità E fare così Così è proprio sminuita l'arma Così va proprio schifo E comunque Cioè comunque è il suo fascino Questa mia metica Magari è una mia metica ancora più brutta Ma non credo ci sia Forse questa No Forse è brutta questa Si dirà anche E facciamo Un bel Un bel kill confirmed ovviamente Perché se no è troppo facile ragazzi Altrimenti Is too much facile Non dite? Non credete? Non so avete visto anche la canna lunga Che proprio Già è brutto il silenzatore di quest'arma Figuratevi Con la canna lunga Cioè è anche avanti Madonna mia ragazzi È orribile Questa mia metica Madonna Che arma orribile Vabbè ragazzi È poco brutta da vedere Quindi L'hashtag Arma brutta È stato comprato anche stavolta Vi ricordo che potete partecipare A questa tra virgolette Serie Che è Armi brutte Nella quale comunque Prenderò il commento Con l'hashtag Armi brutte Più diciamo Utile Che mi servirà Che è l'arma davvero più brutta E lo metterò poi nel video Dove appunto Copierò l'arma Che lui mi suggerisce Quindi tanti commenti Con scritto Hashtag Armi brutte Ed un'arma effettivamente brutta Da vedere eh Non è necessario Che sia anche difficile da usare Questa non è tanto difficile da usare Ma Minchia se è brutta da vedere Cioè per dire A parte non mi aggiungo le texture Non so perché Mentre cammino La roba è tipo Tutta squadrata Non arrivo a capire Perché Cazzo Non l'ho preso E e e e Voleva Voleva ragazzi Volevi Volevi anche se Ma ragazzi The god è quest'arma L'arma forte del mondo No Che attenti Attenti Ok Adesso si può fare No Oddio Ragazzi Cioè Ma Incredibile Oddio mio Ragazzi io voglio quest'arma Forever and ever Io Io la voglio per sempre Quest'arma Perché ricordate ragazzi Un diamante È per sempre No 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 E dai 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 Ma smettiamola Ti ho sparato dietro più colpi Ci stavi anche facendo un gunfight Quindi eri anche danneggiato Ma che cazzo sta dicendo Vabbè No 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 E vabbè Cioè Un secondo di Forse ho avuto un attimo di brio Quando usavo la prima volta E adesso fa schifo Cioè adesso Ha sempre fatto schifo in realtà Ma Vabbè 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 Ah non si può Ah Pensavo si potesse correre su un muro Visto che La tematica del gioco è basata su questo Vabbè Risorgeremo ragazzi Come abbiamo sempre fatto Come la Come la grande fenice Ok Chillato Ho fatto anche headshot Mi chiedete com'è possibile Attento Lo sapevo che c'era qualcuno Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ok Aspetta aspetta Che Ah cioè è vero Ragazzi ho anche alto calibro io Quindi Se gli colpisco in testa Cioè Muorono male eh Ti diamo l'UAB Prima che Arrivi qualcuno Ok Ho alto calibro Infatti non se si nota Ho l'arma un po' più bombata Ragazzi Il normale Cioè più bombata Molto più bombata in realtà No Dai Che palle Cioè Sto facendo un buon risultato ragazzi Con quest'arma Ma è orribile Orribile anche in teoria Da giocare Cioè Ma io voglio questo Merino tutta la vita Voglio il Merino Laser Ma è più il Merino Ole Solo Solo Merino Laser For me Quella lì Dov'è? 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 Vedi? Ti garbo Rabe Ah prendi da te dai Te la lascio No Ok Dov'è il nemico? Dov'è il nemico? Ok di qua non può essere Ok Sono mia spona di qua ragazzi Il nemighe Attento C'è quell'Arnese C'è Occhio E vabbè Quanto odio il Cerberus Che poi ripeto Finchè lo guido io Fa di un cacare No finchè lo guido dal computer Fa di un cacare Roba Roba da mettersi le mani I capelli E strappassoli Davvero Una cosa allucinante Poi lo guidano gli altri O lo guida il computer Degli altri Comunque sia The God The God The God The God Oppure Ci voleva Tanto non ho il silenziatore E fantasma Per non farmi vedere Tranquilli Giratevi come se niente fosse Ogni singola volta Non vi preoccupate Non sclero Se succede Non mi può vedere Non mi può vedere Non mi può vedere Non mi vede Non mi vede Non mi vede Vuela 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 Mamma mia Ma Ragazzi Qui possiamo Qui possiamo Urlare alla magia O sbaglio È dietro È dietro Ce l'ha fatta Ok davanti Ce n'è ancora sicuramente Quindi stai attento Attento Attentissimo Ok Può andare di qua Non c'è mai un cazzo L'ho detto L'ho detto Non c'è mai un cazzo Di nessuno Stavo per dire Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro È dietro È qua È qua È qua È qua È qua È qua Ok Chillato Ok sono tutti laggiù adesso Tutti eh Mi metti che ha Camaleonte Incredibile Ed importante Anche se mi sono fatto vedere Adesso Speriamo L'avebbero visto del tutto Ok Laggiù c'è un nemico Se uno sta saltando Killiamolo Ok uno è morto Sto andando un po' a dritto Io me ne sto fregando molto Di quel che mi gira intorno Ok Qua c'è una targhetta mia Cioè nostra Quindi esatto Tu la vorrei prendere Ok dammi 100 punti per questa No Ok me l'ha dati però Ma davo 100 punti Quindi va benissimo così Devo essere molto più parsimonioso Però vabbè Dettagli Mettiamo questo qua Da una parte E adesso Che cazzo mi spari Non mi sparare mai più eh Ok Che qui arriva La peggio gente Vi arriva Dove arriveranno Comunque Una volta abituato Non la senti molta differenza Tra questa sensibilità Sensibilità 6 o 7 Magari sensibilità 10 Sì che c'entra La senti la differenza Però No Già no eh Non mi dobbiamo buttare già giù Se no Cribbio Ok Ok Poi Che altro vuole Un po' di pallottole Eh Che altro le vuole Le mie pallottole Venite 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 Non mi posso aver già buttato giù eh Mi rifiuto Mi rifiuto Mi rifiuto di crederci Ok Il là è doppia Doppia Ok Quella Letta Dal cazzo Dal cazzo Per favore Ok Assist 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 Ok Ok Doppia 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 Ok Kill Kill Ok Kill Ancora Mamma mia Ragazzi Mamma mia Cioè Quanto Quanto sto Raps Ancora questo Dai vieni Stavolta Tiro qua però Tiro qua però E ci vengo anche a camperare io adesso lì Ragazzi ho 34-7 Bellissima questa arma 34-7 però spero di finire un po' di due Perché ho tirato raps e coso insieme Quindi Sperai di fare un risultato un po' un po' migliore Diciamo Un po' meno barbino Kill ali Dai Qui c'è anche il mio C'è anche il mio Wright qua Se non sbaglio E vabbè Vabbè ci sta Ci sta Stiamo Stiamo in positivo Ok Questi continuano a spaccarmi tutto Bravo Wright Fai qualcosa Dore sto sparando Mi metto Non fa nemmeno gli hit marker Sto cercando di buttare giù eh Ci provano Non ci riescono eh Oh bravo Wright Sei bravissimo Sei un eroe Mamma mia Mamma mia ragazzi Che top Che bel Che top Eccoti lì Assis Bravo Wright Bravissimo Guarda che sono tutti i nemici Dove sono tutti i nemici Lì Uno e due Madonna mia Che campioni Che siete Ogli e benci Allora poi Questa è scoppiata qua Non so il perché Minimamente 92 ragazzi Stiamo vincendo Tanto Male Tanto Tanto Veloce 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 Lì c'è un nemico Non c'è nessuno Madonna Hanno buttato giù tutto Vabbè ma sono dei killer Di ricompense questi Madonna Fanno Scusa Fanno la diamante Dello Shish Proprio C'è più nessuno Stiamo contro Zero Che bello Che top Che benessere Ok abbiamo vinto Io ho chiuso 48 8 Quindi paradossalmente 5 per 8 40 Rata 6 Rata 6 Bellissimo Mi sto stirando Perché ho fatto una bella partita Con un'arma Con accessori Completamente a caso Tipo Silenziatore Canna lunga Senza un bonus Perché altrimenti non potete avere Con il mirino Boa 3 Il mirino Boa 3 Che roba è il mirino Boa 3 Che altro Che altro c'è di feature In questa partita Non mi ricordo Alto calibro Che è una cosa che non ho mai usato Faccio anche il vanto Dovrebbe essere il dub Il dub Mamma mia il dub Avevo anche la ricarica rapida Perché il caricatore E quello aumentato Era uguale però Grigio Mentre quello veloce Era tipo il 2 Quindi era più brutto da vedere E dalla mia mimetica è tutto Mi piace Per supportare la serie Un commento Dicendomi cosa ne pensate E il commento Hashtag Arma brutta Iscrivetevi al canale E passate anche le mie social Che sono qui In descrizione Ho fatto anche il livello 55 Diciamo che al prossimo video Per questo video è tutto Ciao Niri Ciao Niri Grazie.